Avrebbero dovuto salpare in 400 da Napoli per salvare i migranti in mare, almeno nei roboanti annunci del sindaco Luigi De Magistris. Col passare dei mesi però il cordone umanitario napoletano è diventato un semplice corteo marino di solidarietà umana nei confronti di chi salva le vite dei tanti immigrati costretti a partire dall'Africa per cercare salvezza in Europa. Nel giorno in cui è stata arrestata Carola Rachete, capitano della Sea-Watch, alla partenza dal Molosiglio, questa mattina non erano certo 400 e neanche 120 le imbarcazioni, così come aveva comunicato alla vigilia il comune di Napoli. È cambiata anche la barca su cui avrebbe dovuto salire Luigi De Magistris con i suoi assessori. A bordo della Pilgrim e non sulla troppo patriottica Italia, il sindaco ha guidato il risicato corteo a cui hanno preso parte anche gli equipaggi di alcune navi ONG, tra questi la Marionio, sequestrata in base al decreto Salmini dopo aver recuperato 30 naufraghi in mare nel canale di Sicilia. Noi siamo assolutamente assieme a Carola. Oggi la nostra imbarcazione mediterranea partecipa a questo corteo acqueo e per la giornata di oggi sarà ribattezzata Free Carola perché riteniamo che l'esercizio del diritto esercitato dalla comandante della nave Sea-Watch 3 sia stato un esercizio giusto e corretto. È stato tentato in tutti i modi di impedire quell'attracco e quello sbarco. Noi sappiamo che la convenzione internazionale impone nel momento del salvataggio di arrivare allo sbarco nella maniera e nel modo più vicino nel porto sicuro maggiormente vicino. Prima cosa che mi sento di dire è che dedico questo importante primo corteo a mare a Carola Rachete e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso dell'equità e della misura. Uno Stato è forte non se mostra muscoli arrugginiti ma se ha la capacità di attuare fino in fondo i valori costituzionali. Quindi oggi mi sento di schierarmi senza alcuna forma di tentennamento nei confronti di questa comandante che ha fatto quello che ogni persona che è rimasta umana avrebbe fatto. quindi credo che arrestare Carola Rachete significa arrestare l'umanità e provo vergogna in questo momento di essere rappresentato da questo governo.